a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ci siamo su fine item freddy's 2 allora ragazzi siamo ancora nella quarta notte vi volevo anche fare una proposta che non so se alcuni di voi vi potrebbe piacere se insomma questo sarebbe teoricamente l'ultimo video di fine item freddy's 2 se volete anche il 3 e dico anche 3 di fine di questo gioco fatemelo sapere questo nei commenti e se vi interessa questa proposta la porterò se non vi interessa non la porto iniziamo fine item freddy's iniziamo anche questa nottata perché insomma ho provato tante volte a volerla finire off camera stanotte che tanto è sempre la stessa però anche da solo non ci riesco allora allora per il momento non vedo che ci stanno ancora attaccando il carattolo sono uscito per sbaglio da qui è calda si è svegliata già mengole che la odio ecco aspettiamo ora no allora ragazzi perché se io clicco qua durante il buio quando mi sta arrivando foxy fa quel suono cloc cloc le cose varie la che non sa biccia la toccia quindi devo capire bene quando la devo accendere e quando non la devo accendere perché se la accendo nei momenti più sbagliati mi si scarica la batteria adesso questo ci dovrei stare attento allora qui non c'è nessuno qui non c'è nessuno però è fammi andare vedere l'altro lato da qualche parte qui intorno può essere che siano qui sì c'è mengor c'è o chi c'è chi c'è allora foxy la illuminiamo come nostro solito ok dovremmo essere fatta stava per morirci il carillon e quindi svegliamo il puppet che ci che secondo me più e quello più impossibile da fermare tra tutti comunque ho anche trovato forse questo metodo per fermare mengol quale sarebbe sarebbe di indossare la maschera la maschera quando lei sta dentro il condotto perché allora tramite ballon boy che quando tu indossi la maschera mentre lui sta là dentro c'è tutto il tempo che lui si può confondere che se un animatronics quindi lo stesso potrebbe valere per mengol anche se realtà è una volpe come foxy che potrebbe attaccarci lo stesso ma essenzialmente mengol ci attacca se noi non la illuminiamo quando sta davanti a noi oppure quando insomma state quando arriva quando passa nei condotti quindi è questo anche i nostri errore questo è l'errore quindi la maschera serve anche per fermare il mango una buona una volta per tutte penso adesso che dovremmo cliccare infatti perfetto ok dovremmo averlo fatto fuori perché ormai penso che sarà cieco come un come un vecchio ma non lo sarà mai per molte ore ma sarà solamente per pochissime ore quindi eccola chi è chi c'è c'è mengol ok proviamo sta situazione vedete funziona praticamente funziona in questa funzionato sta tattica vuoi che sarebbe ora no che che sarebbe qui no che succede che succede che succede perché perché mi è sparito tutto no no raga è qua impossibile che o fermiamo quelli che stanno davanti a noi o fermiamo quelli o fermiamo il puppet uno di questi due dobbiamo fermare uno di questi due dobbiamo fermare uno di questi cavolo di due dobbiamo da ferma ok dovremmo esserci ancora i ball un boy ancora non si fa madonna cica 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 ma roma fa ma pia un infarto quando mi arriva che stronti sta gallina brutta con la faccia la babbuina ok lo sapevo c'è c'è anche freddy fantastico c'è anche freddy ci mancava anche freddy ci mancava cim ok c'è i ball un boy c'è i ball un boy ok se n'è andato perfetto qui c'è ancora freddy che è rimasto imbambolato come un babbuino allora ok qui c'è ancora spero che rimanga bloccato lì madonna mia quanto si pena oggi ragazzo ha visto abbiamo perso troppo tempo abbiamo perso troppo tempo non ce l'abbiamo fatta ci avrà visti come una morte trova visti no siamo ancora vivi e c'è fox che era pronta ad attaccarci l'urida maledetta di una volpe allora no dai boni niente a fara guy puppet si sveglia si è svegliato i puppet a meno che non lo fermiamo qui ok dovremmo averlo fermato praticamente in tempo ok l'abbiamo fermato ecco maschera maschera ok maschera ok la dovremmo averla fermata sono le quattro di notte dai 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 che se continuiamo di questo passo possiamo forse andare avanti con questa con questo gioco dai no 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 raga no non ce la facciamo raga non ce la facciamo non ce la facciamo è impossibile è impossibile mo ci arriverà di nuovo foxy davanti che ora non abbiamo più niente davanti la non possiamo più illuminare in avanti ma gli animatonix questi qua del gioco ecco l'abbiamo perso troppo tempo ci ha acchiappato ci ha acchiappato raga niente da fare raga ci ha acchiappato quanto sei brutta quanto sei brutta cica veramente quanto sei brutta da una mille si brutta assai proprio primo jumpscare da cica proprio no 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 quello di cica proprio è terrificante quella di cica è terrificante c'è ti arriva proprio un faccia proviamoci per l'ultima volta poi penso che finirò così perché c'è ma stavamo proprio a scherzare stavamo proprio a scherzare ecco la mengol già parte fantastico senza manco un minuto già parte mengol allora scusate per il taglio allora 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 ok dovremmo esserci ancora allora allora chi sarà mai qui dentro la nostra amichetta foxy ok via 1 ok abbiamo illuminata sufficiente per farla andare via allora così dovremmo andare bene dai dobbiamo superiamo dobbiamo riuscire a superare questa cavolo di nottata che ce ne serve proprio assai tempisco proprio giusto giusto ad accendere la luce pensavo di mancarla questa perfetto allora dovremmo avercela fatta ma dovremmo averla fermata allora allora però morisci tu eh mengol te voi e non se ne va sei incastrata là dentro sei affezionata la la sopra vabbè rimani pure nessun nessun casino dai tanto fai solamente la preoccupazione su luna di notte ho già spiegato ora no ora ok ciao foxy che allora dio ok ce la dovremmo aver fatta l'abbiamo illuminato sufficientemente ma chi c'è nei condotti è proprio clicca i condotti magari così potremmo vedere chi c'è allora 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 abbiamo caricato l'unboxing al massimo mengol non servì non si vede ancora finché non si vede non si veda mengol c'è tutta la possibilità di rimanere vivi perché insomma di occuparci anche dei pappet che si sta per svegliare perché già finisce questa sua batteria qua si è tipo una batteria sto coso per tenerlo poi a freno è perché stimetti sono teni a freno questa arriva in faccia subito non si può mai ferma allora no dai c'è qui per forza di nuovo foxy ok allora c'è sempre stato bonny e ora si è unito foxy fantastico e sono solamente le due di notte mi hanno fatto spiegare 3 batterie mi hanno fatto spiegare annaccio i sandali quando sono bastanti questi qua allora 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 ecco c'è me no c'è cica brutta c'è cica la bruttona che ti morisse un cagotto non è vero ah ma c'è mengol qui la incastri magari a quella la di dentro quella gallina pura bruttona grazie mille grazie mille intanto qua suona il telefono qui c'è cosa il bruttone di nome freddi ciao cica non mi farai jumpscare questa volta questa volta tu i jumpscare secondo me non ce la fai no e vabbè se sveglia se sveglia il puppet fantastico si è svegliato il puppet e vabbè raga è impossibile perché però se c'è ancora chance lo possiamo ferma ce la possiamo ce la possiamo ancora fare dovremmo averlo fermato ancora no ragazzi lo sento eh si è svegliato si è svegliato purtroppo non ce l'abbiamo fatta in tempo ma ci verrà in faccia eh raga è inutile farlo è inutile tanto abbiamo madonna mia quando sei stato brutto puppet veramente bruttissimo si bruttissimo mamma mia quanto è brutto vabbè ragazzi io direi che questo video finisce qua scusate se dura poco ma insomma per il momento la concludo qui nei prossimi episodi cioè insomma se volete fine night and freddy's 3 e fatemelo sapere questo sotto nei commenti e il video penso che durerà un po più lungo in confronto a questo che sta durando 12 minuti comunque fatemi sapere questo sotto nei commenti se volete fine night and freddy's 3 noi ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao